Emergenza coronavirus, tanta gente si è spaventata. Volevamo sapere da un esperta nel settore come ha impattato questo fenomeno sul turismo. Inizialmente ovviamente è stato uno shock, più per me che forse per il cliente. Il cliente devo dire che fino ad oggi non ha annullato nulla. È chiaro che ci siamo trovati davanti a una situazione dove alcuni paesi tipo Seychelles, Romania e Mauritius hanno detto no e anche la Roya Caribbean fino al 31 marzo ha bloccato gli italiani, i Lombardi e i Veneti ad entrare sulla nave oppure sulle destinazioni Mauritius piuttosto che Seychelles e Romania. Però diciamo che stiamo aspettando ancora in realtà il venire di questa situazione perché secondo me se andiamo avanti così non è il top perché l'estate, noi abbiamo tantissime partenze per l'estate in queste destinazioni, gli Stati Uniti hanno messo qualche allarme, stiamo in attesa, però siamo fiduciosi. Il mercato pavese come sta rispondendo a questa situazione? Secondo me Pavia più di altre città rimane molto spaventata, gli italiani in generale sono un popolo che si spaventa subito, ho parlato appunto con dei colleghi inglesi e tedeschi che hanno detto che di questa cosa non ne parlano nemmeno, quindi secondo me Pavia e sono una città piccola sicuramente un po' ne risente. Vogliamo mandare un messaggio positivo alla gente e dire che non è pericoloso viaggiare, anzi bisogna continuare a viaggiare perché il mondo non si può fermare con le dovute precauzioni. Certo, io assolutamente sono d'accordo, siamo qua apposta, abbiamo avuto clienti che hanno prenotato appunto negli ultimi giorni Grecia, Spagna e Italia. Appena è arrivata una richiesta in questo momento di Sudafrica più Mauricio, nonostante Mauricio abbia chiuso fino al 31 marzo, quindi secondo me c'è anche adesso la reazione opposta dove la gente dice io voglio partire a tutti i costi, non voglio rimanere qua e dobbiamo assolutamente andare verso questa direzione, altrimenti il mercato sicuramente scenderà in maniera vertiginosa. Quindi dobbiamo essere noi i primi ad affrontare le cose con più intelligenza e più tranquillità. Ultima cosa, Confindustria che sono in incontro con il governo per poter chiedere un aiuto concreto alle strutture ricettive perché hanno subito dei flop incredibili, per le agenzie di viaggio c'è un'emergenza simile oppure no? Sì, ho sentito in parte che ancora le idee sono ancora confuse, si parlava appunto di un aiuto verso i dipendenti per aiutare l'azienda comunque a rimanere in piedi, le agenzie di viaggio, i tour operator, perché noi siamo sia agenzie di viaggio che tour operator. Il punto è che però ci sono ancora tante cose a discutere e secondo me la cosa ovviamente sarà lunga prima che arrivano poi a delle risposte concrete. Io in realtà spero invece che questa cosa duri questo mese, massimo due, poi riprendiamo la grande. Continuate a viaggiare, mi raccomando, non spaventatevi.